Gli emiliano-romagnoli che hanno completato il ciclo di vaccinazione anti-covid sono quasi 3 milioni, un numero che, rapportato alla platea complessiva delle persone vaccinabili, quindi quelle dai 12 anni compiuti in su, alza la percentuale di copertura con la seconda dose in regione al 74,4% e all'82,7%, considerando coloro che hanno ricevuto almeno una dose. In particolare, la fascia dei più giovani dai 12 ai 19 anni è quella che ha fatto registrare l'incremento più sostenuto, aumentando di 6 punti percentuali nell'ultima settimana. È stato anche confermato che la Regione è pronta a riconsegnare le dosi di vaccino AstraZeneca in gecenza, come richiesto dalla stessa struttura commissariale. Delle 139.600 attualmente disponibili sul territorio regionale, 131.200 non utilizzate e in scadenza fino a ottobre saranno restituite. Circa 1.260 dosi verranno trattenute perché destinate, come previsto dalla programmazione del piano vaccinale, a completare il ciclo con la somministrazione delle seconde dosi per i cittadini che ce l'hanno già in programmazione e le rimanenti 7.000 vengono conservate per il proseguimento della campagna vaccinale per le categorie cui AstraZeneca ha indicato.